in primis non esiste un sistema che suona meglio di un altro ci sono sistemi che sono più o meno performanti e bisogna contestualizzare il tutto se parliamo di 200 euro di budget è ovvio che potremmo aspettarci un certo tipo di risultato a 500 euro un altro tipo di risultato a 1000 10.000 100.000 quindi è ovvio che prima di tutto bisogna contestualizzare sulla tipologia in realtà il discorso si fa ancora più semplice un amplificatore esterno un diffusore passivo una sorgente dedicata i cavi di interconnessione il mobiletto gli accessori e l'ambiente sono tutti componenti sono tutti ingredienti di un ottimo piatto da realizzare se siete dei bravi cuochi allora potete tranquillamente andare nel vostro supermercato di fiducia trovare i vostri ingredienti migliori e realizzare il vostro piatto non è uno scherzo un po' l'alta fateltà è un po' questo quindi sui propri gusti personali su quella che è la propria sensazione personale riuscire a combinare o avere l'amico audiofilo il trender della situazione che ci danno consigli ci dicono che quell'amplificatore va bene con quelle casse con quella sorgente ed è una soluzione assolutamente valida è la soluzione importantissima oggi per l'alta fedeltà parliamo di hobby per l'alta fedeltà passiamo di passione per l'alta fedeltà passione per la musica poi deve stare on top su questa prima dobbiamo essere appassionati di musica e poi possiamo appassionarci di alta fedeltà ci piace mangiare ci piace il buon cibo e magari diventiamo bravi cuochi ci piace metterci ai fornelli questa è un po' la similitudine e questo è il vantaggio dell'alta fedeltà quindi poter scegliere poter costruire il proprio sistema con componenti separati sistemi definibili only one sono oggi pari prestazionali ai sistemi a componenti separati come risultato finale a parità di condizioni ovviamente risultati sono simili la piacevolezza dell'ascolto la qualità dell'ascolto finale sostanzialmente la stessa è ovvio che non possiamo paragonare un prodotto da 2500 euro attivo all in one come la wireless 2 di keff ad un sistema da 100 mila euro con componenti passivi con multi amplificazione hegel muon di keff o d'altro cioè non è questo ovviamente il paragone che possiamo fare ma nell'ambito della passione riguarda il 90 per cento di tutti noi la classificazione fra sistema a componenti separati e sistema all in one digitale è assolutamente paritaria cosa garantisce oggi un sistema digitale only one un sistema attivo wireless come la keff ls 50 wireless 2 garantisce interfacciabilità versatilità prestazioni di alto livello nella sua categoria di prezzo e anche oltre magari parlando proprio di questo specifico modello ma soprattutto una cosa e questo è da sottolineare chi più degli ingegneri keff più chi di jackie okey brown ingegnere capo in keff più chi dei signori che dal 1961 stanno in keff realizzano casse acustiche possono sapere chi più di loro può sapere come suona una ls 50 passiva una ls 50 meta loro hanno realizzato la ls 50 meta sapranno bene quali sono i limiti quali sono le prestazioni di questo diffusore l'han fatto loro ebbene così chi più di loro può dedicare tempo risorse e creare una elettronica per far performare al meglio questo diffusore ecco che nasce la sinergia ecco che nasce il progetto olistico ecco che nasce quello che è il miglior rapporto volta prezzo ecco quello che significa massimizzare il rapporto prestazioni costo significa che da parte nostra se prendiamo una ls 50 meta passiva andremo alla ricerca del buon amplificatore da collegarci dell'ottimo cavo per l'interconnessione del posizionamento dell'affinamento quant'altro ma sarà una nostra scelta il risultato sarà sempre eccellente posso pensare ad un lingdorf tdi 1120 fascia di prezzo adeguata ottima potenza timbro eccezionale ottimo risultato buona interfacciabilità e buona fruibilità con tutti i servizi di streaming ed altro posso pensare ad un cyrus ad un cyrus perché no anche la serie one dal base che non ha neanche il convertitore ci metto le mie sorgenti analogiche per ascoltare il mio giro dischi ottima potenza dinamica ottimo interfacciamento un timbro dettagliato dinamico e veloce hegel un suono più ampio un con un h 120 o anche con un h 95 posso collegare ls 50 meta ed ottengo un risultato dall'ottimo palcoscenico un suono molto naturale ottima profondità di scena dettaglio ricchezza di armoniche ed altro ho dato delle definizioni con il lingdorf in un modo con legel in un altro con rotel in un altro con cambridge in un altro col cyrus le prestazioni sono di questo tipo quindi ho caratterizzato praticamente il risultato ed ognuno di essi sarà eccezionale sarà ottimo perché faranno a condizione che l'amplificatore possa far esprimere al meglio il diffusore dal punto di vista elettrico il risultato sarà che ls 50 meta suonerà benissimo e sarà il suono che a me piace avrà le caratteristiche di interfacciamento fisica e l'amplificatore che a me interessano e quindi vado avanti per la mia strada da quest'altra parte con i sistemi attivi invece hanno già fatto in che hanno preso la miglior combinazione possibile nell'ambito di costo della realizzazione per poter far esprimere al meglio ls 50 tirando quindi una riga l'esempio pratico è questo con 2500 euro acquistiamo una ls 50 wireless 2 ed otteniamo risultato x con una ls 50 meta 1200 euro di valore abbiamo 1300 euro a disposizione per sorgenti interfacciamento amplificazione cavi questi sono fattori che vanno sommati e con 1300 euro probabilmente difficilmente otterrò quanto ottenuto dagli ingegneri kef nella realizzazione con l'implementazione della wireless 2 quindi se il budget se l'idea di investimento è nell'ambito del prodotto finito del sistema attivo finito faccio riferimento alla ls 50 wireless 2 2500 euro se il budget è quello probabilmente su quella cifra sarà impossibile far suonare ls 50 meta passiva con un elettronica a quel costo discorso diverso è quello di far suonare ls 50 meta passiva con un amplificatore di altissimo livello perché no un h 390 diegel non non è assurdo spendere 6000 euro per un diffusore da 1200 credetemi fate una prova d'ascolto provate a vedere cosa in grado di fare un diffusore di alto livello dall'ottimo rapporto qualità prezzo iconico e stratosferico come ls 50 meta con un amplificatore da 6 7 10 mila euro esperienza personale ho provato quel diffusore con lh 590 diegel 11 mila euro di amplificazione su 1200 euro di diffusore volavano volavano il limite di quei diffusori che sono diffusori veramente ben strutturati e ben realizzati è molto in là quindi permette di far ascoltare differenze e qualità anche a livelli molto alti dell'elettronica quindi o si sceglie un'elettronica di alto livello sul diffusore ma su questa fascia di prezzo difficilmente si riuscirà a far suonare meglio ls 50 meta perché di quella stiamo parlando nel caso dell'esempio di keff del sistema attivo keff ls 50 wireless 2 con un'amplificazione separata quindi questo è un po il concetto poi ripeto il gusto dell'alta fedeltà il gusto di poter cambiare componenti evolvere metterci le mani sulla nostra passione e dare vita alla nostra passione è un altro aspetto quindi abbandonare i sistemi attivi come scelta e dedicarsi alla passione dell'alta fedeltà crescendo nel tempo e facendo crescere la propria passione le proprie competenze per realizzare il proprio sogno che è l'impianto ideale che non esiste che sarete sempre alla rincorsa del miglior suono possibile grazie a tutti